Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, oggi è sabato 29 maggio 2010 e il titolo del video è Inferno e 8 per mille. Voi sapete cos'è l'inferno? L'inferno lo sapete cos'è? No, lo sapete cos'è l'inferno, è un luogo terribile dove Dio manda quelli che non si sono comportati bene, ma ce li manda, non per 5, 10, 15 anni in mezzo al fuoco, no, per l'eternità, capito? Per l'eternità e c'è l'inferno, poi ve lo dimostro, per i cattolici, per i cristiani però, c'è, 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 c'è. Sapete pure cos'è l'8 per mille? L'8 per mille è quello che voi date alla chiesa cattolica quando fate la dichiarazione di redditi. Ora, 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 succede questo, che un mio amico un mese fa mi ha dato la fotocopia, la fotocopia di questo articolo che, ora vi riassumo, si possono dire per riassunto le cose. Allora, che io vi riassumo è che è stato pubblicato, allora, dal giornalaccio antiche dedicare che è La Repubblica, il 26 aprile 2010, più di un mese fa, e che è inserito però nelle pagine economico-finanziarie, potete andarlo a vedere, perché il titolo è questo, vedete? E l'8 per mille finisce quasi tutto nelle casse del Vaticano. Ah, vedete, i giornalisti si prendono tante libertà poetiche, perché se voi andate a scuola, il professore di italiano vi dice che una frase non si inizia mai con la E, con la E, perché la E è una congiunzione, e questa E qua non congiunge niente, non si mette all'inizio, però quasi tutti i titoli dei giornali come E, E, libertà poetico-linetta giornalistica, libertà poetico-giornalistica, una volta si chiamava solo libertà poetica, oggi ci mettiamo libertà poetico-giornalista, e guarda che bello, E, chissà a chi si riferisce il giornalista qua, E, l'8 per mille finisce quasi tutto nelle casse del Vaticano. Solo il 40% dei contribuenti ha dato una indicazione precisa, voi sapete che mettete la crocetta, l'8 per mille lo do alla chiesa cattolica, l'8 per mille lo do allo Stato, l'8 per mille lo do alla chiesa valdese, poi ci sono tante indicazioni, tanti non ci mettono nessuna indicazione, no? Allora, solo il 40% dei contribuenti, solo il 40% dei contribuenti ha dato un'indicazione precisa, ma lo Stato ha deciso di applicare la relativa percettuale di ripartizione, pure a chi non ha segnalato un beneficiario, pensate un po' voi, pensate un po' voi, eccetera, 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 capito, capito, fatto la legge, fatto l'inganno, ah, dicevo quel giornalaccio anticlericale che è la Repubblica, è anticlericale solo quando non si tratta di pubblicare gli articoli di un certo teologo, Vito Mancuso, che fa il teologo liberale, democratico, avanzato, teologo modernista, però la pappa te la somministra sempre la pappa del Vaticano, anche se ci mettono il zucchero dentro, te la somministra sempre, io vorrei sapere da Vito Mancuso che scrive sulla Repubblica se pure per lui c'è l'inferno, perché l'inferno fa parte della dottrina cristiana, non si scappa, poi ve lo dimostro, poi ve lo dimostro, io voglio vedere, scrivi Vito Mancuso, cari amici mandate questo mio video al giornalista della Repubblica, Vito Mancuso, che è un grande teologo, scrivi su la Repubblica un bell'articolo dove tu dici chiaro e tonto se l'inferno c'è o non c'è, però devi dire pure se il papa è d'accordo con quello che scrivi tu. Bene, allora è anticlericale la Repubblica, ma solo quando non si tratta di scrivere gli articoli relativi ai libri che via via pubblica Eugenio Scalfari sulle vicissitudine della sua coscienza e sui rapporti con Dio che egli sente sempre più vicino, sempre più vicino a Cielo, lo sente su di sé l'alito della divinità e Eugenio Scalfari, beh, sto giornalaccio qua non doveva pubblicare sto brutto articolo qua, giornalaccio anticlericale, anticlerica Otto per Mille. Allora, come nasce sta storia dell'Otto per Mille? Voi sapete, vorreste sapere, siete giovani, non sapete tante cose, che l'Otto per Mille è un'invenzione dei patti tra il povero Craxi e la Santa Sede del 1984 che salta fuori l'Otto per Mille, che un cittadino lo può destinare alla Chiesa Cattolica, allo Stato e via di seguito, anche ad altre entità, ad altre persone giuridiche, va bene? Prima di Craxi però ci aveva pensato il povero Duce a fare i patti con la Chiesa Cattolica e il povero Duce l'11 febbraio del 1929 fece dei famosi patti, il concordato famoso 11 febbraio del 1929 con la Chiesa, lo Stato fece la pace con la Chiesa, perché la Chiesa dopo il 20 settembre 1870 quando i bersaglieri avevano preso cannonate le mura di Roma all'altezza di Porta Via e la Chiesa l'aveva scomunicato il regno di Savoia, l'aveva scomunicato e si doveva fare la pace si doveva fare la pace perché c'era la moltitudine dei cattolici che anziché seguire gli ordini del re e seguiva gli ordini del Papa, ma se io fossi stato un povero Duce che avevo in mano tanti giornali e io glielo ricordavo ai sudditi del regno di Savoia che erano anche sudditi spiritualmente parlando del Papa sui giornali in prima pagina si faceva una campagna che sarebbe durata perché chissà che faceva d'ordine, quello che siamo le veline, prima pagina, titolo, articolo a pagina la Chiesa cattolica c'ha l'inferno e tutti i giorni la Chiesa cattolica c'ha l'inferno che non è una cosetta così l'inferno non è che in Stati Uniti c'è la pena di morte vabbè, uno muore, pace all'anima sua e il fatto è che l'inferno è la pena che non finisce mai voi riuscite a immaginarla all'eternità? riuscite a immaginare voi la vostra anima, il vostro corpo giù all'inferno? giù all'inferno? con quei diavoli, con quei forconi che si divertono a tenerti per l'eternità dentro le fiamme? guardate che io sto scherzando ma è così anche oggi dopo ve le leggo le cose, ve le leggo eh allora se io fossi stato... ma povero Duce ma tu avevi tanti cerarchi consiglieri tanti cerarchi consiglieri ma è possibile che nessuno ti abbia detto va bene Duce facciamo il concordato col Vaticano però chiediamo al Vaticano di fare un dogma di emettere un nuovo dogma in cui si stabilisce che l'inferno è stato chiuso l'inferno è stato chiuso e che tutti quelli che c'erano dentro sono andati fuori, sono stati liberati sono stati liberati e sono stati mandati magari in paradiso che hanno già sofferto... però non c'è più l'inferno dal momento della firma del concordato in poi l'inferno non c'è più e non ci ha pensato il povero Duce, è strano e si vede che lui non la conosceva la storia delle religioni cioè non sapeva che c'erano altri dei ancora più forti di quello cristiano cattolico ancora più forti che l'inferno non ce l'ha possibile che pure è una persona di cultura il Duce è una persona di cultura che pure non sapesse che c'erano altre religioni che non ce l'hanno, non ce l'avevano non ce l'hanno e non ce l'avranno l'inferno religioni con un Dio molto più forte di quello cristiano cattolico e io ripeto avrei fatto una campagna elettorale cioè una campagna giornalistica una campagna giornalistica che allora era il Duce che stabiliva quello che veniva pubblicato tutti i giorni su tutti i giornali d'Italia prima pagina la Chiesa Cattolica il Dio cattolico c'è l'inferno il Dio cristiano cattolico c'è l'inferno fiamme, eccole, fiamme in modo da indurre tutti i parrucchiani tutti i parrucchiani a fare pressioni sui parrucci dice anche l'inferno non ci piace perché i parrucchiani te lo dicono cioè i parrucci te lo dicono che c'è l'inferno però ne parlano poco ne parlano poco e te lo dicono seriamente sono in certi momenti particolari come quando ci fu il terboto dell'Aquila che il Vaticano ci mandò padre canta la messa padre canta la messa perché là all'Aquila quando c'è stato il terremoto gli aquilani si sono preoccupati hanno detto ma insomma padre Eterno padre Eterno ma come lo mandi proprio nel centro dell'Aquila il terremoto butti giù le tue chiese ci viene a sconvolgere l'esistenza di noi aquilani che siamo tanti religiosi allora serpeggiava serpeggiava il tormento del dubbio del dubbio del dubbio del dubbio sull'esistenza di Dio allora il Vaticano ha detto aspetta aspetta che prima che quegli aquilani mi diventino tutti altri aspetta che ci parlo ci mando padre canta la messa che è un predicatore che ha studiato mi pare alta teologia a Tubinga non mi ricordo bene chi ci pensa lui con gli aquilani e infatti agli aquilani che gli ha detto che il padre canta la messa una famosa predica ha tirato fuori tutta la sua competenza teologica e gli ha detto attenti a non dubitare dell'esistenza di Dio perché è meglio credere che non credere meglio credere che non credere perché se l'inferno c'è voi potete dubitare che ci sia ma se c'è l'inferno poi ci andate per l'eternità capito? ogni tanto bisogna tirarlo fuori ma tirarlo fuori con gli occhiacci con l'inferno allora e lui dice doveva fare la campagna giornalistica tutti i giornali d'Italia tutti i giorni in vista del concordato la chiesa la religione cristiano-cattolica ha l'inferno però doveva dire pure però invece la religione dei testimoni di Geova e la religione degli ebrei l'inferno non ce l'ha è proprio bello in modo che tutti imparavano anche nelle campagne lontane magari che se passavano i giornali quelli che erano capaci di reggere se passavano le informazioni così i parroci schizzavano di rabbia quando sentivano dire che la religione cristiano-cattolica ha l'inferno per l'eternità invece il Dio potentissimo dei testimoni di Geova è il Dio ancora più potente degli ebrei non ce l'ha l'inferno schizzavano di rabbia i parroci di rabbia schizzavano e tutti i parroci scrivevano al Papa di farlo il dogma farlo il dogma e se no qua li perdiamo tutti si convertono tutti alla religione ebreica e alla religione dei testimoni di Geova e poi se si convertono alla religione ebreica ti saluto leggi razziali non lo puoi più fare come si chiama il patto di ferro il patto d'acciaio con Hitler perché se gli italiani si convertono tutti dalla religione ebraica perché il Dio ebraico non c'è all'inferno e qua è finita è finita la cosa come si chiama il patto d'acciaio quello chiamato come mi pare e non ci ha pensato il popolo non ci ha pensato si vede che c'aveva delle lacune nel campo delle religioni non ci ha pensato e lo stesso errore poi l'ha compiuto e ha fatto il patto il concordato il concordato tra Stato e Chiesa e lì è nato tutto lì l'11 febbraio del 29 e poi c'è ricascato pure il povero Bettino Craxi anche Bettino Craxi che è venuto dopo e c'era più cultura ai tempi di Bettino Craxi che non ai tempi del povero Duce e anche lui non ci ha pensato a dire al papato al papato oh e qua fate un dogma no? e fate un dogma e dite che l'inferno non c'è più e ditelo e c'erano le televisioni il tempo dei Craxi Craxi poteva andare a televisione e dire sì riformiamo i patti latiranensi fatti dal povero Duce però chiediamo alla Chiesa Cattolica lo diceva la televisione proprio di fare un dogma dicendo che l'inferno non c'è più l'inferno non c'è più è stato ermeticamente chiuso e che quelli che c'erano dentro sono andati in paradiso no neanche Craxi neanche Craxi allora io dico se io devo dare dei soldi a uno che celebra i riti religiosi e beh mi cerco uno che celebra i diritti religiosi che mi vanno bene io la penso come gli antichi romani gli antichi romani sapete erano maestri nel campo del diritto all'università nella facoltà di giurisprudenza e c'è sempre il famoso esame di diritto romano che è un po' come si chiama la prova del fuoco per lo studente universitario all'inizio della facoltà il diritto romano erano maestri nel diritto e loro pacta servanda sunte pacta servanda sunte e loro facevano i patti con gli dei c'erano tanti dei c'erano poi tanti dei in casa avevano le statuine e quando chiedevano un favore a un dio che poi gli facevano i sacrifici gli facevano i sacrifici graditi al dio dal didali e chiedevano al dio un certo favore e gli facevano i sacrifici c'era un patto io ti faccio un sacrificio e tu mi fai questo favore se poi il favore non si realizzava cioè la cosa richiesta non si realizzava e l'antico romano prendeva la statuetta del dio del dio che non aveva stato i patti la sbatteva contro il muro la sbatteva contro il muro la faceva salter via a mille pezzi e si metteva con un altro dio e così è fatta servanda assunta quindi quindi se lo Stato lo Stato cioè noi cittadini dobbiamo dare dei soldi per mantenere in vita piccolosamente coloro che celebrano i riti e beh 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 ma scegliamoci il rito migliore ma vi pare voi è il rito migliore quello di una religione che prevede l'inferno ma vi pare prevede l'inferno oh per l'eternità e ce l'avete voi il concetto dell'eternità ce l'avete voi il concetto dell'eternità perché mica l'hanno cambiato e cristiano cattolici cattolici cristiani insomma i cristiani mica l'hanno cambiato e vabbè allora diamo un'occhiatina qua diamo un'occhiatina diamo diamo un'occhiatina qua la situazione diamo un'occhiatina eccolo qua allora 27 marzo 2010 l'osservatore romano 27 marzo 2010 l'ho stampato da google che di nuovo lo benedico google perché voi su google potete trovare tutto ripeto altro che enciclopedia britannica altro che vabbè e bello questo articolo l'osservatore romano 27 marzo 2010 il titolo è il luogo del fuoco gelido e se esiste o no l'inferno non lo dobbiamo chiedere ai filosofi e neppure ai teologi siano pure i più blasonati il compito dei teologi non è quello di determinare i contenuti del credo ma quello di illustrarli in connessioni con tutto il mistero cristiano dobbiamo invece interrogare la fede dalla chiesa che non ha inventato l'inferno ma lo afferma semplicemente perché ha ascoltato la parola di cristo sul fuoco eterno matteo 25 41 e sulla resurrezione di condanna per quelli che fecero il male il concilio di trento nell'ottavo canone sulla giustificazione afferma il valore salutare il valore salutare della paura dell'inferno grazie alla quale dolendoci dei peccati ci rifugiamo nella misericordia di Dio e ci asteniamo dal male e e e andrà ecco allora nel credo nel credo di Paolo di Paolo Paolo di Tarso vi si professa che Gesù Cristo è salito al cielo e verranno nuovamente nella gloria per giudicare i vivi e i morti ciascuno secondo i propri meriti sicché andranno alla vita eterna coloro che hanno risposto all'amore e alla misericordia di Dio e andranno nel fuoco inestinguibile coloro che fino all'ultimo vi hanno posto il loro rifiuto mentre il catechismo della chiesa cattolica afferma egli annuncia egli Gesù annunzia con parole severe che manderà i suoi angeli i quali raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente e che pronunzerà la condanna via lontano da me maledetti nel fuoco eterno è sempre il catechismo della chiesa cattolica la chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità e non si sca eternità passasse per 10 15 20 30 anni ma che è una cattività incredibile ma manco negli stati dove c'è la pena di morte sono così cattivi io quando sento queste cose scusatemi cari non giudicatemi male ma mi viene da pensare che questo Dio sia il male assoluto questo Dio questo Dio che prevede per le sue creature che è stato lui che ci ha messo al mondo noi a lui non abbiamo chiesto un fico secco è lui che per il suo narcisismo ci ha messo al mondo poteva non creare nulla se ne stava felice e contento lui perché ci ha creati e poi ci ha creati e ci ha creati anche nelle condizioni di fare il bene di fare il male dice ci ha dato la libertà e vabbè ci poteva dare la libertà di fare solo il bene non ci dicono forse che Dio fa soltanto il bene allora chi è è privo di libertà Dio è privo di libertà Dio può fare solo il bene non mi dite che fa il male se non è entrato in contraddizione ci creava a lui visto che ci ha fatti a sua immagine e a sua omiglianza e invece di darci la famosa libertà di cui si parla tanto ci dava la libertà ma di fare solo il bene cioè la libertà di scegliere tra tante forme di bene allora io a questo Dio che ha creato ha messo al mondo i suoi figli le sue creature le ha creato la sua immagine e la sua omiglianza gli ha dato la libertà pensa un po' di fare il bene e il male ma chi è che gliela chiesto a questa libertà di fare il bene e il male visto che ci ha creato la sua immagine e la sua omiglianza ci poteva dare la libertà di fare solo il bene ci sono tante forme di bene e noi potevamo avere da gestire la libertà solo all'interno del bene e per vedere l'inferno dove Dio tu caro tu caro sei il male assoluto e sei tu il male assoluto e vabbè dai il fuoco eterno dove la pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio eccetera 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 e continua l'articolo lungo e non c'è tra qua leggerlo tutto c'è comunque c'è questo è un articolo del 2010 è l'osservatore romano 27 marzo 2010 eccolo qua all'inferno non c'è la grazia di Dio la grazia di Cristo e manca la sua gloria esso è il luogo della permanente e impeditente deprecazione dell'amore misericordioso insomma il tormento il tormento di quanti rimurano all'inferno proviene proprio dal fatto che vi è assente Gesù risorto e risorto e che l'inferno è il non esserci di Cristo e della Chiesa al contrario l'inferno è una comunione di dannati all'inferno non è possibile l'esperienza dell'amore non ci si ama ma non ci si può che odiare a vicenda una specie di carcere dove i galeotti si danno un sacco di botte in mano in carcere di quelli brasiliani è proprio un luogo di sofferenza una specie di lager insomma insomma l'amore questo dio allora è il dio cristiano cattolico cristiano va bene eppure vogliamo vedere gli islamici eh sugli islamici il dio islamico è un dio molto potente il dio islamico come il dio cristiano sono due fratelli eh il dio Allah e il dio Cristo sono fratelli perché sono figli dell'unico papà l'unico papà che è Yahweh il dio ebraico però questi due fratelli sembra che il più cattivo di questi due dei fratelli Dio Cristo e Dio Allah sembra che il più cattivo sia il Dio Cristo perché il Dio Cristo c'ha l'inferno per l'eternità invece il Dio Allah fratello del Dio Cristo non si sa se l'inferno ce l'abbia per l'eternità e o ce l'abbia per un periodo temporaneo secondo la fede islamica l'inferno è il luogo escatologico in cui secondo il Corano i pre reprobri saranno condannati a permanere secondo alcuni per l'eternità ma secondo altri solo per il periodo che Dio vorrà e che per i musulmani sarà comunque limitato nel tempo cioè per il Dio Allah l'inferno c'è per gli islamici c'è l'inferno però non si sa bene se sia temporaneo o eterno dipende dalla volontà di Dio del Dio Allah caso per caso beh almeno qua c'è questa possibilità che non c'è che non ci viene data dal Dio Cristiano dal Dio Cristo perché siano fratelli non vanno tanto d'accordo relativamente alle punizioni da dare ai loro fedeli per il Dio Cristo e l'inferno è eterno è una pena eterna che non finisce mai e per il Dio Allah invece è una pena l'inferno però sembra che di caso in caso il Dio Allah stabilisca se renderla temporanea o definitiva c'è un po' di speranza e adesso vediamo un po' io pensavo che i cosi i valdesi avessero risolta sta faccenda dell'inferno anche perché ci sono pure i valdesi nella questione dell'otto per mille scusatemi se sbaglio però qua io ho cercato ho cercato ma la questione dell'inferno mi dispiace cari valdesi ma voi come si dice la glissate non si dice almeno il Dio Cristo te lo dice chiaro e tondo come stanno le cose e voi no cari valdesi e dovete dovete dirlo chiaro e tondo è inutile girarci attorno al problema ditecelo chiaro e tondo così ci sappiamo regolare sull'otto per mille capito ditecelo cari valdesi ditecelo chiaro e tondo vabbè lo chiaro e tondo capito senza se senza ma adesso arriviamo ai testimoni di Ceova a questi si che gli si deve dare e l'otto per mille non lo so se è previsto non me ne intendo di queste cose capito non mi piacciono questi moduli di 740 non me li ricordo mai e se ci sono i testimoni di Ceova loro se lo meritano non c'è l'inferno non c'è l'inferno per i testimoni di Ceova sentite qua sentite qua a parte il fatto che i testimoni di Ceova sono nati nel 1870 e quindi c'erano già ai tempi del povero Duce e anche al tempo di Bettino Craxi e qualcuno avrebbe dovuto informare il povero Duce o poi dopo Bettino Craxi guarda guardate che i testimoni di Ceova ci sono in Italia sono stati fondati nel 1870 in Pensilvania e non c'è l'inferno e diciamogli alla Chiesa Romana che lo Stato il concordato lo fa ma vuole una religione una religione con un Dio buono e i soldi li vuol dare un Dio buono non un Dio cattivo va bene no dice allora attenzione i testimoni di Ceova credono nella risurrezione e in una futura ricompensa per i giusti per i giusti solo per i giusti la ricompensa la vita in cielo per i 144.000 giusti la vita in cielo per i 144.000 giusti chiamato il piccolo Grigi e sulla Terra trasformato in un paradiso per il resto dei servitori di Dio cioè se dovesse arrivare la fine del mondo siamo in 6 miliardi sulla Terra per i testimoni di Geova 144.000 i giusti i giusti i migliori se ne vanno in cielo con Dio se ne vanno in cielo con Dio tutti gli altri 5 miliardi 900 milioni eccetera eccetera stanno sulla Terra non stanno in cielo con Dio stanno sulla Terra ma la Terra sarà trasformata in un paradiso penso sì questo sì che è un Dio giusto il Dio dei testimoni di Geova ma questo sì che è un Dio giusto ecco qua se proprio proprio vogliamo fare un patto fra lo Stato e una religione facciamolo con la religione ma c'è di meglio cari amici c'è ancora di meglio c'è il Dio è il Dio Yahweh è il Dio degli ebrei c'è il Dio degli ebrei cari amici il Dio degli ebrei il Dio degli ebrei non ce l'ha là di là non ce l'ha per niente è ancora più semplice il Dio degli ebrei Yahweh è il Dio è il Dio del popolo ebraico l'ebraismo un Dio concreto un Dio concreto molto concreto molto concreto io del Dio Yahweh ne ho parlato tanto in questo mio romanzo storico mitologico la stirpe del serpente è col Dio Yahweh è con i dieci comandamenti che nasce il patriarcato il patriarcato sì sì magari è nato anche prima il patriarcato anche prima dei dieci comandamenti però il documento forte il documento forte la testimonianza forte relativamente al patriarcato ce l'abbiamo con i dieci comandamenti ma lui questo Dio potentissimo non era mai apparso sulla faccia della terra un Dio potente come il Dio Yahweh perché è lui l'unico Dio che crea tutto ex nihilo da nulla e in fin di conti Cristo e Allah sono figli suoi figli suoi e i padri i padri in questo caso Yahweh il papà è sempre più forte dei figli no è la regola del patriarcato nei dieci comandamenti c'è scritto onore al padre e alla madre non c'è mica scritto onore al figlio e alla figlia e il potere il potere ce l'hanno i patres i patres i patres famiglia ce l'hanno i patres famiglia il patriarcato il potere quindi Yahweh come Dio padre è molto 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 più forte dei suoi figli Cristo e Allah tanto è vero che gli ebrei sono quelli che hanno un po' in mano le sorti del nostro pianeta perché sono loro che hanno inventato il patriarcato e gestiscono nel modo migliore la proprietà privata l'hanno inventata loro c'hanno il copyright il copyright sulla proprietà privata c'è loro che gestiscono tutto il mondo loro 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 l'hanno inventato loro il patriarcato e loro Dio è il più potente di tutti l'ho già detto nei due video l'eresia sovietica e l'eresia nazista che non si poteva sconfiggere l'ideologia ebraica non è possibile sconfiggere l'ideologia ebraica che ai fini conti è l'ideologia della proprietà privata e l'ha inventata il Dio Yahweh la proprietà privata è non desiderare la roba d'altri non desiderare la roba d'altri e anche la donna d'altri è un ordine divino e non si può ci hanno provato Hitler Stalin non ci sono riusciti il nazismo è stato sconfitto dalla potenza ebraica internazionale e l'urse è cascata perché nel cuore dei cittadini sovietici c'era il dolce ricordo della proprietà privata magari di un campicello ma tu 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 non ho deluttato tu tutto tuo tutto e allora è il Dio più forte e allora è il patto è il patto fra Stato e Chiesa facciamolo sì ma scegliamocelo noi il nostro Dio il Dio migliore no e andiamo Stato governo italiano che tu sia governo del Berlusconi un domani è un governo di Pierluigi Bersani o un governo Nicchi Ventola ma mettiamole chiare e tondo diciamolo chiare e tondo agli italiani che noi italiani non vogliamo dare i soldi a una religione che c'ha come Dio un Dio che ti ha preparato l'inferno che ti ha preparato l'inferno vabbè ma in Italia benché ci sia un Dio che ha preparato l'inferno vediamo che Camorra andrà anche dal mafia non ci hanno mica paura di questo Dio allora non è con l'inferno che tu puoi bloccare la mala vita e andiamo e mettiamoci un Dio buono i soldi i soldi tiriamoli fuori per un Dio buono e io vorrei che questo video cari ragazzi che voi che mi ascoltate venisse mandato un po' in giro alle sedi come si dice istituzionali in modo che si riveda la questione della denuncia dei redditi che si rifacciano alcuni patti con la Chiesa Cattolica in modo che lo Stato dica io Stato tu Chiesa Cattolica hai a cuore i credenti e io Stato ho a cuore i cittadini il benessere psicologico dei cittadini e non mi va che i miei cittadini vivano per tutta la vita sotto l'incubo dell'inferno se proprio dobbiamo tirare fuori dei soldi per pagare i sacerdoti e tu Chiesa Cattolica devi fare un nuovo dogma dove c'è scritto che l'hai abolito l'inferno e perché se no noi i soldi noi governanti italiani che si tratti di Silvio Berlusconi o che si tratti di Nichi Vendola noi i soldi gli diamo l'otto per mille e lo diamo o ai testimoni di Geo o agli ebrei alla religione ebraica capito cari amici cosa voglio dire con l'inferno e l'otto per mille va bene cari amici ma scegliamocelo noi il Dio migliore scegliamocelo noi visto che lo dobbiamo pagare noi no scegliamocelo noi scegliamocelo e perché poi da qua anche se uno non sceglie lo Stato ha deciso di applicare la relativa percentuale di ripartizione pure a chi non ha segnalato un beneficiario anche se voi non scegliete ci pensa lo Stato a scegliere applica la stessa percentuale per cui che voi scegliate o non scegliate la Chiesa Cattolica gli va sempre una bella fetta della torta dell'otto per mille bella bella questa torta è tutto perché è tutto per tenere in piedi una religione che ha che ha adora un Dio che ti ha preparato l'inferno per l'eternità l'inferno per l'eternità male assoluto è uno che ti prepara l'inferno per l'eternità cosa gli puoi dire che è il male assoluto cosa volete che vi dica più di così inferno è otto per mille mi raccomando ragazzi che mi ascoltate datemi da fare fateli questi questi discorsi qua magari nelle sedi dei partiti di vostra appartenenza ditelo va modificando come si chiama il modello per la dichiarazione dei redditi relativamente alla parte che indica i beneficiari dell'otto per mille e noi cittadini italiani non possiamo vivere sotto l'incubo di andare inferno per l'eternità se no noi cittadini italiani ci convertiamo tutti o alla religione dei testi e questo possiamo fare di nostra iniziativa se i nostri governanti non ci danno retta noi di nostra iniziativa possiamo convertirci o alla religione dei testimoni di Geova o alla religione degli ebrei non ce l'impedisce nessuno questo e abbiamo degli dei forti non parlo del buddismo perché i cristiani cattolici sono buddisti ma i buddisti non ce l'hanno un dio forte ma noi ci confrontiamo alla religione dei testimoni di Geova che hanno un dio fortissimo e alla religione degli ebrei che hanno un dio ancora più forte anzi più forte e nessuno non ci può più dire niente allora i governanti e io voglio vedere quando voi siete convertiti tutti i testimoni di Geova o alla religione degli ebrei come va a finire l'otto per mille per la religione cristiana cattolica che va preparato l'inferno per l'eternità facciamole circolare queste notizie cari amici e dopo i cittadini vivono meglio lavorano meglio una volta che non hanno più l'incubo di andare all'inferno tanto vedete bene che Camorra entra anche in Germania se ne fregano dell'inferno fanno i delinquenti quanto gli pare però non si può far vivere la gente per bene sotto l'incubo dell'inferno e pretendere pure che l'otto per mille vada alla chiesa cattolica che adora un dio che ti ha preparato l'inferno per l'eternità non mi pare è una cosa sensata specialmente ai tempi nostri si dice che siamo tanto in avanti nelle conoscenze tecnico e scientifiche anche umanistiche non mi pare bello non mi pare lo bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino o so no so no so Grazie a tutti.